L'Istituto Alberghiero di Monte Ruscello ancora una volta si apre al territorio con un corso di arte bianca. Preside, che cosa state facendo? Abbiamo cercato di offrire l'insegnamento lungo tutto il percorso della vita anche a chi in passato non ha avuto la possibilità di approfondire tematiche come quelle dell'alimentazione e la trasformazione dei cibi. Apriamo al territorio, come giustamente diceva lei, a tutti coloro che hanno voglia di apprendere, di migliorare la propria arte culinaria all'interno delle nostre famiglie, all'interno del nostro territorio, tutto dove i nostri alunni saranno i docenti di tutti coloro che avranno la possibilità di partecipare a questo corso e vista l'enorme richiesta che abbiamo avuto siamo quasi in difficoltà. Ne faremo due corsi che partiranno il giorno 30 di questo mese e poi la loro arte sarà messa in mostra e apriremo la scuola a tutti i partecipanti per assaggiare realmente tutto il loro know-how che i nostri ragazzi hanno saputo da smettere a loro e poi cerchiamo di fare una grande festa e aprendo la scuola al territorio ai campi fregherei tutti e alla città di Pozzuoli stessa. Un corso quindi rivolto ai genitori degli alunni che frequentano e non soltanto? No, il corso è aperto alla città di Pozzuoli, alla Fregrea, a tutti e a tutti coloro che hanno voglio e bisogno di apprendere una nuova arte della trasformazione della materia prima. Alla fine, come dicevo prima, sarà una lunga festa, una grande festa per tutti quanti dove si metteranno alla prova e saranno valutati da tutti coloro che parteciperanno. Poi alla fine del corso, penso a fine maggio, sarà anche un'opportunità e un'occasione per far conoscere il nostro istituto e qual è la mission del nostro istituto.